Quel socio Conad di mio marito mi ha detto Mi viene a prendere alle sette e mezza Che ore sono? Le nove meno cinque Lo so che sta facendo Controlla ogni dettaglio Fare bene il proprio mestiere dice E' questione di sensibilità E ogni sera l'ultima cosa che guarda è l'orologio Il mio socio Conad preferito è così O lo lascio O me lo tengo Troppa la differenza della cifra tecnica Tra le due formazioni scese in campo Nell'anticipo del sabato pomeriggio Per la quarta giornata del campionato regionale d'eccellenza Il rosso-blu di Mister Gastoni e Mariotti Conquistano tre punti e collezionano così La terza vittoria in quattro gare disputate Veramente meglio di così Non poteva certamente immaginarsi Un inizio migliore l'ex tecnico della forza impronese Sul fronte Veregrenze Una giornata tutta da dimenticare 5-0 risultato finale In favore degli ospiti In una partita in cui l'equilibrio Non è durato nemmeno un giro di lancette Del cronometro Al primo affondo L'atletico Gallo col bordolo Già trova il gol Grazie a Veillot Bravo ad insaccare Susseguentemente Ad una rimessa laterale di Domini Ci si aspetta la reazione Della giovane compagine Guidata da Saturnino Quincy Invece il nuovo sbagliorone Del reparto difensivo giallo-blu Quest'oggi in maglia grigia Con Nobili Che si incuna tra i birilli La difesa locale E così la direttrice di gara Stefania Menicucci di Lanciano Decreta il tiro dagli 11 metri In favore dei pesaresi Per Bartolini È assai semplice Spiazzare il portiere Morettini E portare così Il doppio vantaggio A favore dei rosto-blu L'incontro di fatto Si chiude intorno al decimo minuto Con il terzo squillo ospite Dal limite La conclusione di Tommaso Paoli Che impatta sul palo Sulla respinta L'ex Vissino Tonucci Anticipa tutti E realizza il 3-0 Nonostante le proteste Per sospetta posizione Di fuorigioco Dell'autore della rete Ovviamente Come anticipato La disparità È abissale in campo I padroni di casa Ci mettono Buona volontà E la voglia di lottare Cosa però che non basta Contro un'avversaria Ben quadrata Che a tratti Gioca a memoria Con un mix Di omogeneizzato Di giovani interessanti E di giocatori più esperti Che possono certamente Contribuire Alla crescita Degli under È proprio Degli under Da segnalare La buonissima prestazione Di Edoardo Paoli Classe 97 Che ha fatto girare A pieno giri I motori Della squadra Rosso-blu Su alla conclusione Su punizione Il diciassettesimo Che finisce Di un nulla Al lato La quarta rete Giunge al trentesimo Dopo il rigore Procuratosi Nell'occasione Della terza rete Questa volta Nobili è bravo Ad inzuccare di testa E mettere nuovamente Alle spalle Di Morrettini L'ultimo squillo De Pessaressi Al decimo Della ripresa Con Tommaso Paoli Che si regala Una conclusione A Palombella Vincente Dalla posizione Defilata E realizza Così la prima Rete stagionale I padroni Di casa Fino all'ultimo istante Cercano La rete Della bandiera Ci va vicino Sul finale Antonio Perella Con una punizione Che viene fermata Dalla traversa Negandogli Così la gioia Per il secondo gol Nel corso Dell'attuale stagione Personale Ovviamente Si archivia L'incontro Con il successo Dell'Atletico Gallo Con dieci punti In classifica A fronte Di ben nove reti Realizzate E nessuna subita Un'ultima annotazione Sulla positiva Direzione di gara Odierna Tutta in quota Rosa Oltre alla signorina Stefania Menicucci Di Lanciano Al suo fianco Le assistente Francesca Tinti Di Iesi E Lucia Pagliari Di Fermo